Allora, buonasera a tutti i nostri spettatori, oggi non sappiamo cosa fare e non si canterà non sappiamo cosa fare e non si canterà e quindi cambiamo anche attore solo per stasera e ci sarò io questa volta e invece di cantare ballerò un po' di tectonica anche se non sono capace e speriamo di far ridere gli spettatori e lasciate commenti in questo video, pronti la musica, via! Rattare le braccia! Vittai! Devo aspettare un minuto che va al ritmo un po' la musica! A allora un di fuoco che riguarda la musica Ehi, vevi, vevi! Ehi, vevi, vevi! Ritmo, ne vedete qui! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Viene da Rabba, Mario Rabba, figlio, prossimo barista, futuro, e pubblicità bevetela, vi da energia, vi va a fare sesso bene, infatti si chiama figa, c'è buco anche se volete provare. E quindi pubblicità, compratela, è buona. Arrivederci, lasciate i commenti.